La categoria si difende facendo bene il proprio lavoro, quindi continuando a esercitare sia quella che è la funzione principale di fare informazione, di informare i cittadini, ma anche esercitando il diritto di critica e il pensiero critico, che è esattamente quello che in questo momento il governo italiano o una parte del governo italiano cerca di attaccare, cioè la funzione critica della stampa, la funzione di mediazione della stampa fra il potere e il cittadino, quindi togliere di mezzo la mediazione, togliere di mezzo le domande, quindi impedire alla stampa di fare domande per manipolare più facilmente i consensi attraverso le piattaforme digitali a cominciare da Rousseau. Esiste un problema di libertà di stampa in Italia ed è evidente se è vero che negli ultimi due mesi, anzi anche meno di due mesi, il Presidente della Repubblica per ben sette volte ha parlato della libertà di stampa, ha parlato della necessità di tutelare chi fa informazione, ha parlato del diritto dei cittadini ad essere informati. Noi oggi purtroppo assistiamo anche al tentativo di chi ha non soltanto insultato pesantemente i giornalisti ma anche messo all'ordine del giorno provvedimenti che portano a indebolire ulteriormente la stampa e soprattutto gli organi di stampa più deboli. assistiamo a un tentativo vergognoso di strumentalizzare i giornalisti precari perché c'è il Ministro Di Maio che continua a convocare gli organismi della categoria intorno a un tavolo con non meglio identificate sigle del lavoro precario al solo tentativo di cercare di rimontare quella che è stata una brutta pagina per il governo italiano, non soltanto in Italia ma noi riteniamo anche nel mondo, nel momento in cui si sono utilizzati aggettivi assolutamente non qualificanti per chi li ha pronunciati nei confronti della categoria ma nei confronti dell'informazione italiana. Quindi noi riteniamo che da chi sta cercando di azzerare per esempio il fondo per l'editoria e questo produrrà sicuramente la creazione di nuovo precariato non possa avvenire alcuna lezione sul lavoro precario.